Vacanze al mare, in montagna o all'estero, ma anche quest'anno sulle ferie estive non manca l'ombra dei rincari. La bella stagione entra nel vivo e con l'ausilio delle agenzie viaggi è possibile tracciare un primissimo bilancio. L'estate sta andando bene, nel senso che noi abbiamo avuto tante prenotazioni, le persone si sono mosse in anticipo, finalmente hanno capito che il prenotaprima aiuta soprattutto a risparmiare e a trovare posto perché comunque sia ancora la disponibilità dei voli, alberghi, non è quella del pre-Covid. C'è molto interesse per le località di mare, l'estero, soprattutto le capitali europee. Ci stiamo muovendo anche molto su soggiorni fai-da-te nel senso il volo più l'albergo organizziamo. Quali sono le mete preferite? Per quanto riguarda l'Europa, ok, le isole del Mediterraneo, l'Italia, Sardegna, Sicilia la fanno da padrona ovviamente, però quest'anno abbiamo riscontrato anche la voglia proprio di visitare, cioè quindi fare dei tour itinerari anche in Europa, tipo il Portogallo, la Spagna, piuttosto che il nord della Francia, anche tour tutti organizzati in pullman. e poi abbiamo avuto di nuovo finalmente il ritorno di Australia, Giappone, che ancora erano dei paesi che erano chiusi da dopo il Covid. L'Italia va sempre molto, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, dico la verità, da quando sono qui poco, però Sicilia e Puglia hanno sempre un ottimo interesse, insomma piacciono molto. All'estero invece? All'estero andiamo molto, come dicevo, Spagna, Portogallo, Inghilterra e poi sta piacendo molto la Turchia e un grossissimo interesse da un paio d'anni a questa parte sulla Giordania. Il periodo estivo è iniziato, ma la voglia di godersi le vacanze per gli italiani si scontra con la pioggia di rincari con cui è necessario fare i conti. Gli aumenti riguardano vari settori ed è sempre più difficile spostarsi con serenità. Ci sono stati dei rincari rispetto alla scorsa stagione? Purtroppo sì, sia a livello di pullman che biglietteria aerea e di conseguenza poi tutti gli alberghi perché comunque sia è aumentato tutto. Ovviamente dobbiamo combattere ogni giorno con la ricerca della tariffa migliore. Sui voli abbiamo visto delle tariffe, soprattutto quelle del lungo raggio, ma anche quelle del medio raggio se non acquistate con largo anticipo, ma anche perché diciamo che dalle nostre zone, vuoi o non vuoi, il brutto e il cattivo tempo lo fa la Ryanair, perché per quanto riguarda l'Europa i collegamenti sono tutti loro, Bologna, Ancona, aeroporti qui vicini. Noi non siamo a Milano, quindi ci dobbiamo fidare a loro. Se si prenotava prima si trovavano dei prezzi decorosi, oggi un biglietto può costare anche 600 euro, che è una cifra folle. Anche Pesaro per l'estate 2023 accoglie turisti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Come sta andando la sua estate? Molto bene, siamo arrivati una settimana fa e ci piace molto, stiamo andando molto bene. Da dove venite? Dal Canada, da Montreal. Perché avete scelto Pesaro? Perché è una bella città, mi sento veramente che è come l'italiana che conoscevo una volta, che è molto più familiare, comoda, meno turisti anche, che vengono dall'estero. Mi sento bene. Secondo anno che veniamo qui nel Pesarese, ci siamo trovati molto bene il primo, talmente bene che siamo rivenuti un'altra volta. Perché avete scelto questa città? Cosa vi ha colpito particolarmente? Guarda, l'elenco è molto lungo perché ci ha colpito la vitalità, gli spettacoli, a volte la gratuità degli spettacoli, cosa che in altre città magari è più complicata. I ristoranti, non dico di no, la comodità di Pesaro che puoi girare a piedi un po' dappertutto, la parte molto bella questa pedonale. Il mare pure è bello, va bene, sì si sta bene, i bambini si divertono, quello è l'importante, almeno i genitori si rilassano, tutto ok. Da dove venite? Da Viterbo. Perché avete scelto Pesaro? Ma veramente era una tappa che io facevo da bambino, ci sono cresciuto, quindi adesso erano 20 anni che non tornavo, con i bambini, di cosa che c'è? Proviamo. Cosa ti ha colpito particolarmente di questa città? La tranquillità, è calmo, se sta bene. Da Vicenza. Perché avete scelto Pesaro? Un consiglio di un collega, è stato qua due anni fa, mi ha parlato bene del posto, e abbiamo seguito. Cosa vi ha colpito di questa città? La tranquillità e l'atmosfera da famiglia. Da dove venite e perché avete scelto proprio Pesaro? Veniamo da Bari e abbiamo scelto Pesaro per l'Ulissa Fest, quindi insomma siamo oggi, stiamo esplorando, iniziando ad esplorare la città per la prima volta, bellissima, veniamo dalla casa di Rossini adesso, stupenda. Cosa vi ha colpito in particolare? C'è tanta cultura, c'è da imparare tanto, infatti siamo andati adesso nella casa di Rossini e abbiamo ascoltato tutta la sua storia, adesso vediamo un po' cos'altro ci riserva.